Mi do la buonasera e il benvenuto, questa è la aula di spianti, la nuova realtà di questo municipio, allora l'addestramento mi sconvolge un po', insomma, mi rientra tipicamente nei vocaboli che non si può fare, un assiduamento, però sono contento, sono curioso per questo risultato, insomma, perché il nostro Colleferro eccelle in vari settori e addirittura in quello della moda, e se la moda che è un settore importantissimo nel paese, per questo sviluppo in generale, economico, culturale nel paese, eccelle anche per me di qualche Colleferrino, è sicuramente questo motivo di contendezza, quello di orgoglio da parte dell'administrazione, quando l'assessore Zagrini mi ha proposto questa serata, io l'ho accettato volentieri, siamo contenti, siamo contenti soprattutto per te, siamo contenti perché il nome di Colleferro è, come al solito, insomma, nei miei posti tante classifiche, ti auguriamo, facciamo un grande augurio per quello che potrai avere davanti con la tua mano, poi c'è tutto il tuo proposto, e poi insomma sarà un oggetto di discussione, non ci mancherà, grazie a voi. Grazie. Grazie.